Buongiorno, bentrovati, cosa dire se le cose sono difficili per l'Inter, lo sono sempre un po' di più. Questa è la prima considerazione che va fatta, intanto come vi avevo preannunciato ieri, erano in arrivo brutte notizie, per fortuna niente di grave, però c'è ansia e apprensione, come da titolo del video, per questo Covid-19 che è tornato con le varianti che si stanno diffondendo a fare paura, a fare comunque contagi, a creare problemi e quindi per via della privacy non potevamo anticipare quello che è stato il comunicato dell'Inter sulla positività emersa a Beppe Marotta, a Piero Ausilio, a Alessandro Antonello, l'Avvocato Cappellini e un membro dello staff tecnico che per ragioni di privacy non è stato comunicato. Per ora i tamponi effettuati al gruppo squadra e allo staff di Conte hanno dato esiti negativi. Vi aspettiamo oggi, è caldo pronto, sperando che non aumentino le difficoltà sul cammino dell'Inter, soprattutto che siano tutti bene, come in questo momento, a parte qualche sintomo. Mandiamo un abbraccio gigante a tutti, diciamo, alla dirigenza dell'Inter, colpita dal Covid. Naturalmente preoccupano i contatti che ci sono stati dopo il derby e poi anche quelli che ha avuto il membro dello staff con il gruppo squadra che in ogni caso è in isolamento fiduciario con la possibilità di fare solo tragitti a piano abitazioni in attesa degli ultimi tamponi, sperando che non ci siano altre positività, però prima considerazione da fare questa variante inglese insieme alle altre sudafricane, eccetera, eccetera. È molto aggressiva e dunque anche, come ci aveva chiesto il nostro indimenticabile Mauro Bellugi, fate attenzione sempre massima, tutte le precauzioni possibili, soprattutto in questo momento che il virus rialza la testa e prova ancora una volta a metterci KO, distanze di sicurezza, mascherine, fate tutto, lavatevi le mani, evitate assembramenti, lo so che è dura, che non ce la si fa più, però bisogna anche pensare a battere una volta per tutte questo maledetto virus, incrociando le dita che si possa uscire presso questa situazione e che anche non ci siano positività ulteriori all'interno dell'Inter come c'erano state un girone fa proprio di questi tempi tra derby e Genoa, i casi più numerosi con l'Inter, che fece veramente fatica ad andare avanti e anche a schierare una formazione, vi ricorderete tutti, le assenze appunto nel derby con Kolarov ed Ambrosio, che vennero fatti giocare titolari per mancanza di screen al bastone e tutte le positività che arrivarono poi a nove in quel momento, in quel periodo, un'ansia che non riguarda solo la situazione diciamo italiana dovuta al covid e alle problematiche connesse relative, ma che appunto diciamo che arriva dalla Cina, ieri è stato sospeso per eccesso di ribasso il titolo di Suning alla borsa di Shenzhen, cosa sta succedendo per ovviare a questa crisi di liquidità da pandemia? Il gruppo Suning e la famiglia Zang hanno messo in vendita un circa 25% delle quote in loro possesso del gruppo, che quindi potrebbe cambiare la sua maggioranza, sospeso il titolo e potrebbe cambiare appunto chi controlla il gruppo, chi ha la maggioranza con un intervento penso dello Stato cinese ad aiutare il gruppo colosso dell'elettrodomestica in grossa difficoltà di liquidi. Cosa cambia per quanto riguarda l'Inter? Al momento non c'è niente di sostanziale, possiamo dire così, però potrebbe accelerare il processo di vendita della società che auspichiamo, visto la situazione generale in questo momento, visto tutto quello che sta succedendo, quindi perde un po' di peso la possibilità che Steven Zhang riesca a ottenere un prestito ponte per cercare di arrivare fino al termine del campionato, mentre rinvigorisce l'offerta di BC Partners, che al momento è l'unica sul tavolo, da 800 milioni più bonus, che potrebbe essere anche un salvagente importante e dare al gruppo cinese in difficoltà quella liquidità di cui ha bisogno per superare la crisi e andare poi a tagliare tutte le attività non essenziali, come aveva anticipato nel suo discorso motivazionale Jin Dong Zhang settimana scorsa ai dipendenti del gruppo per rassicurarli sul momento difficile, si dice pure che in Cina anche diversi centri commerciali abbiano chiuso di Suning che è un impero con vendita al dettaglio, vendita online, centri commerciali, real estate e soprattutto gli investimenti immobiliari e il salvataggio di Evergrande hanno affossato il gruppo insieme alla pandemia, una situazione che stanno vivendo tante società, come conosciamo benissimo tante attività per questo maledetto virus in cui effetti si fanno sentire a 360 gradi, noi non possiamo che stare alla finestra e aspettare che si risolva qualcosa, continua a rimanere un certo silenzio sia sul fronte BC Partners in attesa di una risposta ufficiale alla loro ultima offerta sia da parte di Suning e naturalmente teniamo monitorata la situazione cinese, la situazione borsistica, però c'è un po' di apprensione naturalmente anche perché ci stiamo avvicinando a marzo ormai, mancano pochi giorni e entro fine marzo l'Inter dovrà iniziare a ottemperare tutta quella serie di scadenze, soprattutto quelle UEFA che devono essere, non si possono diciamo rinviare ulteriormente e possono anche nella peggiore dell'ipotesi portare a un'esclusione delle coppe la prossima stagione che sarebbe una sciagura perché comunque ci si aspetta che presto in un modo o nell'altro come hanno fatto anche in America nell'NBA che hanno riaperto i palazzetti con una capienza del 10% si aspetta comunque che l'anno prossimo si torni a un minimo di normalità e quindi anche finire fuori dalla dalla Champions sarebbe una mazzata economica pesantissima quindi bisogna in tutti i modi evitare che succedano cose del genere così come i punti di penalizzazione di cui qualcuno parla che al momento diciamo non preoccupano anche perché Suning comunque ha garantito che terrà fede a tutti i suoi obblighi fino a termine della stagione e che provvederà a pagare tutti gli stipendi e quanto dovuto però chiaramente è sempre un po' più difficile all'Inter che da altre parti però vedendo anche i conti pubblicati dalla Juve nel primo semestre con un rosso da 100 e passa milioni capite quanto la crisi stia incidendo e quanto si stia veramente facendo fatica con gli stadi chiusi senza liquidità lo stesso merchandising in grossa difficoltà nonostante il primato in classifica che però adesso bisogna ancora di più difendere con le unghie e con i denti per dare anche un appeal sempre maggiore al club e aiutare l'inter questi colori a venire fuori da questa crisi a trovare una nuova proprietà che possa garantire il futuro e una ulteriore crescita come si sta facendo dal punto di vista sportivo sperando che il covid non abbia diciamo attaccato anche il gruppo squadra perché questo è veramente un momento chiave con le prossime tre partite in poco più di una settimana Genoa a San Siro un Genoa che arriva domenica alle 15 rinvigorito dalla cura Ballardini da una striscia di risultati utili lunghissima non perde dal 6 di gennaio dunque un Genoa che proverà a far punti anche a San Siro poi Parma in infrasettimanale lunedì l'altro con l'Atalanta a Bergamo sfida cruciale e fondamentale per il futuro dell'Inter che l'anno scorso proprio a Bergamo diciamo si conquistò il secondo posto e fece una delle migliori partite come solidità difensiva tenendo bloccando il miglior attacco del campionato con una prestazione di grande personalità una delle migliori in assoluto da quando è arrivato Conte anche per le poche occasioni concesse all'Atalanta dei miracoli che però anche non è più quella squadra con tutti i problemi che ha avuto i caso Gomez l'ultimo Ilicic insomma anche a Bergamo qualche difficoltà la stanno avendo una settimana fondamentale non credo che Conte vada a far turnover domenica in cui schiererà a parte a chi mi squalificato la formazione migliore magari a Parma qualche turnover un po' di turnover qualche cambio lo farà ci sono i quattro difidati che preoccupano Lukaku su tutti poi anche Bastoni Barella e Brozovic però prima o poi queste situazioni verranno diciamo consumate e dunque si proverà ad azzerare intanto notizia il 17 marzo il recupero tra Juventus e Napoli dopodiché la classifica non sarà più virtuale e avremo anche un'altra visione con tutte le partite disputate vi direi comunque di stare tranquilli pazienza che tutto si risolverà per il meglio aspettando e sperando anche che si possa arrivare a una soluzione rapida per questo cambio di proprietà viste le difficoltà del gruppo Suning a questo punto mi auspico che l'offerta di BC Partners che è comunque importante 800 milioni più bonus compresi i debiti in un momento di crisi come questa con il rischio che si può veramente prendere chiunque possa inserire il calcio nei suoi diciamo investimenti non si può penso cestinare vediamo quello che accadrà nelle prossime ore e sicuramente ci avviciniamo a dei passaggi cruciali per il futuro dell'Inter spazio adesso ai vostri messaggi come sempre angolo della posta hashtag arrivati ieri le vostre considerazioni i vostri dubbi le vostre sottolineature e poi e poi non dimentichiamo vi ricordo sempre di scaricare telegram nella nello store e poi cercare il nostro gruppo marco varzaghi inter cliccando in basso a destra unisciti farete parte la nostra community ancora maggiormente gran parte dei messaggi sono relativi alla possibile vendita di Lukaku o comunque all'assalto che ci sarà un'altra difficoltà in più fiutando le difficoltà dell'Inter e della sua proprietà da parte dei club più importanti ai giocatori più di appeal di cartello su tutti i siti e Real Madrid che hanno puntato stanno puntando Lukaku, Lautaro, Bastoni, lo stesso Barella tutti i fiori all'occhiello di Conte non possono che attirare i club più importanti vista anche la crisi che c'è in casa nerazzurra motivo in più per accelerare qualsiasi tipo di processo però il fatto anche che Suning abbia messo in vendita un penny lo Jiangsu dimostra come tutto si stia accelerando e come il gruppo cinese consapevole delle sue difficoltà stia decidendo per andare avanti senza tutte quelle attività che non può più supportare come faceva in passato Optimus Prime, buongiorno abbiamo la miglior coppia d'attacco della Serie A e direi non solo come gli ha risposto qualcuno ma anche la seconda miglior coppia in Europa dietro Mugliore Lewandowski e anche il miglior attacco del campionato Fabio mette i puntini tra lei, seconda miglior difesa, miglior attacco, seconda miglior coppia d'Europa solo due parole, continuare così, testa bassa e pedalare raccimolare più punti possibili in questo filotto di partite difficili ma possibili, forza ragazzi Filippo Persio, sempre difeso la società ma aver messo il club in questa posizione indica una gestione non proprio accorta si rischia di buttarvi anni di lavoro ma Filippo purtroppo gestione poco accorta non direi visto che anche venne fatta una polizza per salvaguardarsi da possibili chiusure degli stadi che ha permesso di recuperare una decina di milioni purtroppo questa crisi, questa pandemia, questa guerra mondiale che stiamo combattendo penso non fosse preventivabile e ha messo in ginocchio tanti quindi la gestione poco accorta non direi e non lo concedo perché veramente è un momento difficile per tutti Lukaku sta bene a Milano e all'Inter, lo ha detto lui, è casa mia, non vedo il problema real Manchester, forza Inter Lukaku is not for everyone, scrive Massimo Duchi questa squadra deve restare così com'è, con qualche piccolo acquisto nei settori dove siamo carenti possiamo dire la nostra in tutte le nostre competizioni anche se appunto il versante sportivo in questa crisi potrebbe venire meno o non essere più così fondamentale Gabriel Gesù è giovane, molto forte, scattante, veloce, ottima corsa, gole a dorma Lukakone, Lukakone, il nostro Hulk, scrive Paolo Rauso poi se proprio devono vendere, spero di no, Gabriel Gesù non sarebbe male Raul Interissa scusate, qualsiasi offerta per Lukaku deve essere spedita al mittente Lukaku è insostituibile, non può essere la pedina sacrificabile se vogliamo ambire a qualcosa in futuro ho un brutto presentimento per fine stagione Marco dimmi che non ci sarà la svendita dei pezzi da 90 ma su questo posso dirtelo Alessandro, sai tranquillo che comunque anche un fondo come BC Partners ha obiettivo di rivendere e guadagnarci l'Inter non di vendere i suoi pezzi pregiati anzi l'obiettivo è cercare di far vincere l'Inter per poi rivenderla e guadagnarci quindi questo è vediamo poi che cosa accadrà sul fronte societario Antonio 86 in questo momento è l'Inter Lukaku quindi non si tocca, Suning deve dare una svolta a questa situazione societaria perché così non si può andare avanti Andrea Gardella non accetterei uno scambio del genere Lukaku-Gabriel Jesus che non può fare il lavoro di Lukaku dopo il Barcellona che valuta 40 milioni fir poi ora il City che valuta 60 milioni Jesus a questo punto Lukaku ne vale 200 e direi che non hai tutti i torti Alberto Basile Josh io piuttosto vendrei Lautaro ogni tanto lo bacchetto quando sbaglia gol facili ma se dobbiamo vendere vendiamo Lautaro e prendiamo Holland se invece non ci puntano una pistola alla tempia teniamo anche Lautaro si sa che il Real Madrid è come la Juve in Europa Antonio Alfano sugli arbitraggi Davide Tironi dobbiamo blindare Lukaku, Hakimi, Barella, Lautaro De Vrij speriamo bene vogliamo un'Inter sempre competitiva noi tifosi siamo preoccupati per andare avanti non si devono toccare né Zanetti né Marotta il migliore comunque sempre un solo grido forza Inter Claudio Bizzarri l'assalta qualche giocatore forte che abbiamo ci sarà inevitabilmente quello sarà un momento cruciale sempre il solito titolo pessimista Alessandro Laini che però poi si salva in corner dicendo che si scherza non mi pare che ci siano sempre titoli pessimisti comunque andiamo avanti e cerchiamo di dare una visione a 360 gradi con tutte le notizie che ci sono buonasera Marco spero tutelino i migliori Antonio Bello la coppia d'attacco credo sia la migliore adesso siamo ok forse dobbiamo prendere piuttosto che dare Sabi Marzo adesso è priorità vincere Alfredo Carone giusta riflessione su Pina Monti bisogna puntare sul ragazzo vedi il Bayern con il ragazzino Musiala Alessiviero ti chiedo scusa per il mio commento di ieri se ti sei sentito mancare di rispetto non era sicuramente mia intenzione questo forse è mancato non mi era piaciuto proprio il tono del tuo messaggio comunque scuse più che mai accettate come vedi non ti ho bloccato Gianluca Cannizzaro più che Lukaku al City vendrei Lautaro un giorno Marco Filippo Ferreri tutto dipende da quello che vorrà fare la nuova proprietà se vorrà sostenere una grande squadra Lukaku Lautaro Barella Bastoni a chi mi scrigna non si toccano speriamo che questa situazione si risolva presto Franco Iseppi ciao Marcone mi tengo Luca Cone fa rima Stefano Meazza pessima notizia nuovi casi di covid comunicati oggi dalla società speriamo in bene Paolo Rauso tifo Inter spero che faranno il bene della società i giocatori vanno e vengono poi comunque avere in squadra uno come Lukaku a chi mi fa sempre sognare in grande ciao Marco dopo Lukaku Lautaro la copia che mi faceva impazzire erano Pulici e Graziani Alberto Riz addirittura si va tanto in là nel tempo questa situazione societaria Luigi Fantauzzo mi sta cominciando a preoccupare speriamo che si risolva più presto grazie per l'ottima informazione giornaliera grazie a te a tutti per essere sempre qui sul canale nonostante i momenti difficili che abbiamo attraversato stiamo attraversando comunque noi ci siamo sempre siamo sempre qui per darvi una mezz'ora di inter di considerazioni di relax di rilassamento di per non pensare ai problemi più gravi saluto anche a Rianna Adrian Flores Alessandro Malti ad oggi nemmeno con 120 milioni dare via Lukaku è fondamentale per l'Inter da blindare tu come la pensi ma con quella maglia lì appesa di quel signore lì chiaramente non lo cederei mai però anche la crisi è qualcosa di imponderabile e come spesso diciamo e ripetiamo non si può escludere niente anche se dovessimo vendere Lukaku a 130 milioni vai a bussare per Roland Mbappé e Lewandowski mi dite come lo sostituiamo abbiamo la fortuna di avere uno dei centravanti più forti al mondo e ce ne priviamo assurdo ma nel caso sarebbe solo un effetto di questa crisi non credo che nessuno voglia vendere Lukaku però anche la situazione non possiamo nasconderci non è più quella di un tempo è molto difficile sai dire se Di Marco chiede Francesco Serra potrebbe tornare a Milano dalle ultime che circolano non dovrebbe essere contro riscattato dall'Inter che riceverebbe quindi 10 milioni dal Verona almeno questo per la situazione anche contingente Adrian Zanfir super video Marco grazie per il tuo aggiornamento Lukaku non lo venderei Gianni Bordin Matteo Bizzarro Lukaku non si vende come vedete il tenore è un po' sempre questo Matteo Perone mi auguro che Lukaku Lautaro non vengano ceduti primo sentito che Antonella Ausilio e Marotta sono positivi al coronavirus spero che nessun giocatore si sia contagiato aspettiamo gli ultimi tamponi e che speriamo che non ci siano comunicazioni che arrivino nella giornata di oggi a rendere ancora più complicato il lavoro di Antonio Conte in ogni caso comunque non avere al proprio fianco Marotta Ausilio Antonello comunque tutta la dirigenza sarà un'assenza anche quella per le prossime partite direi che ci siamo Sarino la permanenza dei nostri top player dipenderà da chi comprerà la società speriamo che qualcuno voglia vincere se no la vedo dura Franco Saggioro è chiaro che la situazione societale l'Inter purtroppo è in difficoltà certe cifre possono ingolosire ma non venderai mai i nostri migliori giocatori grandissimo poi Dejan Stankovic che ha sfiorato l'impresa che forse avrebbe meritato però sempre bello vederlo e vederlo fare così bene direi che questo è quanto andiamo adesso alle ultime notizie la nostra app è sempre aggiornata Sport Mediaset scaricatela anche per rivedervi i miei servizi nella sezione video se non riuscite a vederli in diretta su Italia 1 alle 13.15 nella sezione video trovate tutto e quindi in ogni momento vi potete vedere quanto abbiamo prodotto Juve Morata non ce la fa Inter c'è d'Armiana al posto di Achimi i sorteggi col pericolo inglese per Milan e Roma di Europa League Juve nuovo assalto a Locatelli Inter occasione Mandi l'Algerino del Betis Siviglia che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza giugno è seguito anche da Inter e Liverpool è un giocatore che l'Inter sta guardando con interesse però come vi dico sempre adesso il mercato è qualcosa di così lontano e di così bloccato come abbiamo visto a gennaio finché non si risolverà la situazione societaria tra l'altro non dovrebbe esserci neanche conferenza stampa domani per quanto riguarda Conte vista la situazione stiamo comunque in attesa di novità adesso andiamo alle ultime notizie a leggere i giornali in edicola prima pagina della gazzetta dedicata al Milan salvato da Donnarumma contro la stella rossa di Dekhi e poi anche un accenno all'Inter non ai problemi ma come il marchio stia volando grazie anche al primo posto in classifica all'entusiasmo nonostante tutte le problematiche come avevamo visto anche al derby tv social e maglie boom nerazzurro positivi Marotta Antonella ausilio Inter top andiamo all'interno per fortuna che c'è Gigio attacco incempato Donnarumma pesa come un bomber fiducia Pioli ci ritroveremo dobbiamo tornare a comandare poi la Roma che vince il Napoli con Gattuso che se la prende con l'arbitraggio passione Inter dal merchandising ai social e le tv il primato in campionato ha trasmesso entusiasmo al popolo nerazzurro boom di ascolti televisivi nelle gare del 2021 aumentano i followers eppure lo store vola mi sembra anche un po' anacronistico un pezzo del genere con tutte le difficoltà che ci sono soprattutto nella giornata di oggi però ci sta contagiati pure Antonella ausilio il legale del club è un membro dello staff sale la paura per i giocatori leggiamo dal 4 dicembre quella parolina non veniva più associata all'Inter adesso il covid torna a occupare i pensieri dei nerazzurri con tempismo bizzarro giusto mentre la squadra prepara l'allungo in vetta 5 tesserati del club sono stati contagiati dal virus per fortuna al massimo con sintomi lievi i due amministratori delegati Pe Marotta Alessandro Antonello DS sapere per ausilio l'avvocato capellini eppure un componente del corpo tecnico la positività che ha portato la squadra ad attivare un regime di isolamento fiduciario come da protocollo che durerà per i prossimi 10 giorni ci si muove tra casa e a piano evitando altri contatti con la possibilità di rimanere a dormire comunque nel centro sportivo e ogni 48 ore saranno effettuati nuovi tamponi a tutto il gruppo fino ad ora nessun giocatore o altro componente del club risultato positivo ma l'attenzione massima le prossime giornate saranno decisive per evitare brutte sorprese l'Inter conosce come pochi club quanto possa essere facile spargere il contagio a inizio anno ha dovuto affrontare diverse assenze a causa covid l'ultimo è stato Kolarov guarito proprio il 4 dicembre prima ancora Conte aveva visto cambiare forma la squadra a partire dalle positività di Naingolane e Bastoni i primi a essere contagiati a inizio ottobre non era mica stato poi Skriniar poi era toccata Young, Skriniar Radu, Gagliardini Brozovic Padelli oltre al mancino serbo insomma dopo mesi riecco una certa apprensione ad appiano con caratteristiche diverse stavolta essere colpita è stata soprattutto la dirigenza dopo un tampone negativo Marotta, Antonello e Cappellini avevano normalmente presenziato all'elezione di Gravina lunedì a Roma nulla faceva temere il peggio poi martedì lo stesso Marotta e Ausilio erano andati al funerale di Bellugia a Milano appuntamento dovuto per una gloria del club il giorno dopo la brutta sorpresa che ha riguardato innanzitutto Marotta a quel punto è stato effettuato un giro di tamponi a tutta la compagnia che ieri ha certificato le nuove positività nello specifico i dirigenti hanno visto la squadra per l'ultima volta domenica dopo il derby oggi saranno passati cinque giorni periodo in cui di solito con più alta probabilità si palesano eventuali contagi più attenzione merita invece il caso del membro dello staff che ha partecipato con regolare mascherina alla seduta di mercoledì in quella giornata era risultato negativo a un tampone veloce l'esito del test molecolare arrivato ieri ha cambiato la prospettiva ciò lascia pensare che ci sia che si sia positivizzato in giornata che avesse quindi una bassa carica virale dopo quell'allenamento i giocatori hanno comunque fatto la doccia ognuno nella propria stanza una scelta prudente vista la positività già accertata di Marotta oggi invece esiti del nuovo giro di tamponi alla squadra come l'Inter sa bene in questi casi è oro e ogni giorno guadagnato senza nuove positività stiamo a vedere suning.com sospeso in borsa Zhang pronto a cedere il 20% da mesi ogni minimo movimento a Pechino diventa un boato a Milano stavolta però questo movimento tanto piccolo non è Suning il colosso cinese azionista in maggioranza dell'Inter rischia di modificare sensibilmente il proprio assetto la notizia non tocca il club nerazzurro se non incidentalmente fa discutere sui mercati nel dettaglio il titolo di suning.com uno dei maggiori rivenditori online e offline di elettronica altri beni di consumo in Cina è stato sospeso nella borsa di Shenzhen per eccesso di ribasso il gruppo ha subito dopo comunicato la novità sostanziale ci sarà un trasferimento nella holding del 20-25 per cento di quote i rumors dicono che quella fetta potrebbe finire in mani statali per provare a consolidare la posizione nel mercato del gruppo secondo il Financial Times gli Zhang prevedono di vendere azioni per 1,2 miliardi di euro la sospensione delle negoziazioni non supererà i 5 giorni ma quella cessione di quote potrebbe cambiare la struttura azionaria del gruppo che oggi fa capo alla famiglia Zhang di certo certifica l'esigenza impellente di liquidità di Suning che ha coinvolto anche l'Inter gli Zhang impossibilitati a esportare capitali dalla Cina per decisione politica colpiti dalla crisi in patria cercano un prestito ponte per tornare a gestire il club senza affanni ma dall'altro questa iniezione di denaro aiuterebbe a dare respiro al gruppo a rafforzarne la cassa quindi niente di preoccupante nel comunicato diffuso alla borsa cinese il gruppo ha dichiarato di essere stato informato della vendita di quote dal fondatore Jin Dong Zhang padre del presidente dell'Interstime dalla società madre tra le altre azioniste di Suning c'è anche il gigante Alibaba che ha il 19,99% di quota a dicembre per far cassa la famiglia Zhang aveva dato in garanzia proprio ad Alibaba le attività della holding di famiglia tra cui la quota di controllo dell'Inter e un altro pacchetto della quotata Suning altre comunicazioni dell'azienda potrebbero arrivare alla riapertura della borsa di Shenzhen e quindi potrebbero esserci presto novità questo quanto sulla gazzetta velocemente ci siamo dilungati un po' troppo ma era giusto approfondire sulla rosea corriere dello sport e tutto sport il titolo Suning tutto sport è sospeso in borsa ora che succede la famiglia Zhang rischia di perdere le quote in maggioranza l'incertezza può convolgere anche l'Inter cessione più vicina secondo tutto sport che torna l'incubo covid dirigente staff 5 positivi squadra nuovi tamponi con il Genoa che vorrebbe fare l'impresa e poi l'ansia da covid 5 positivi a chi mi fuori ecco Darmian sul Corriere dello Sport Suning vende sospeso il titolo il gruppo Zhang scenderebbe al 15-20% in Suning.com entra lo stato cinese esce il calcio ma niente di preoccupante sempre sintonizzati sperando che non ci siano brutte notizie in arrivo mi raccomando ma niente di preoccupante non ci siano ma niente di preoccupante